Inizia una settimana estremamente importante per i mercati delle criptovalute, Bitcoin ed ETH provano il rimbalzo durante il weekend, ma è soprattutto in questi prossimi giorni che si andrà a capire se effettivamente il mercato potrà riprendere nuova linfa dopo l'ennesima manipolazione di mercato dovuta alla news relativa alla Cina che blocca Bitcoin e quant'altro ce la fa, non ce la fa, riprendiamo la strada della bull run vera, sì o no, ho anche delle notizie molto interessanti da darvi poi a inizio del mese di ottobre perché inizierà anche il Q4 dei mercati cripto e ci sono delle cose che dobbiamo andare a guardare perché sono molto molto importanti. Bene, ciao a tutti, bentornati nel nostro video di lunedì, il video di aggiornamento sui mercati cripto, Bitcoin e ETH, il video sull'analisi ciclica e analisi tecnica ragazzi. Allora ho già qui davanti al monitor quello che è il grafico che andremo ad analizzare oggi. Prima di andare però sul grafico vi chiedo come sempre ragazzi di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e lasciatemi anche i pollicioni. Qualcuno di voi mi ha detto, ma ora giusta la luce, il muro dietro le sole. Allora ragazzi, allora questo sarà il mio futuro studio, probabilmente nelle prossime mesi, prossime settimane, ma non l'ho ancora definito, quindi non è ancora pronto, quindi devo ancora fare tutto il colore alle pareti, probabilmente la farò grigia. Sono sincero, quindi sto cercando di capire, quindi anche lo sfondo, sono mobili un po' accatastati, a parte la mia, il mio geladischio, la piastra che mi manda i miei vinili. Va bene, allora ragazzi, quindi ci accettano comunque consigli per chi di voi ha grande experience nella struttura di un desk setup, ragazzi, quindi potete scrivermi tranquillamente nei commenti del video, anche mail o anche su Instagram, perché io su Instagram, come vi dicevo, farò anche il desk in live appena mi metto insomma a fare un po' di lavori, ragazzi, ok? Va bene, allora andiamo sul clou del video, mi metto anche gli occhiali così, non ci vedo, anzi faccio anche un'altra cosa. Ecco qua ragazzi, ok? Era da un po' che non vi mostravo il mio, è al contrario, però no, che lo mettiamo diritto, ok? Il mio Bitcoin, quello giusto, eccolo qui, la camera non mette a fuoco e mi sgrana tutto il colore. Va bene, ok, è ritornato, che ci porti fortuna questa settimana ragazzi, importantissima questa settimana. Allora vi faccio vedere un po' il recap di quello che è successo dopo la questione legata alla Cina, questo è il grafico di Bitcoin, guarderemo anche TH oggi comunque. Allora la questione legata alla Cina ha innescato un pool con una giornata 24 di settembre rossa, poi recuperata nelle giornate successive. Allora questa era la zona ragazzi dove vi avevo detto che avrei fatto il mio famoso buy buy the dip, buy the dip che come vedete è ancora in essere con una piccola parte ragazzi, io lo utilizzo la piattaforma di Prime per fare questo tipo di operatività, la consiglio a tutti soprattutto per una attività di trading veloce ragazzi, come sempre c'è il link in descrizione, quindi mi date una mano con il ref, c'è anche uno sconto tra le altre cose, quindi la mia posizione in dip è stata fatta direttamente ragazzi, vedete sulla fase di ribasso proprio del giorno del 9, quindi poi il 24 non sono andato a modificare, scusate non il 9, il 21, il 24 non sono andato poi a modificare la posizione, non sono uscito, sono rimasto esattamente dove ero, non ho però neanche incrementato, perché? Perché la mia posizione di incremento, quindi il mio over, un incremento operativo insomma di questa posizione, probabilmente un raddoppio, quindi leva 2, in sostanza avverrà sul break di queste due medie mobili e quindi evidentemente se il mercato mi dà un segnale di forza, perché da un punto di vista di analisi tecnica in effetti con il ribasso dovuto alla questione Cina, il mercato ha creato questo AI, questo livello di massimo molto importante perché intanto è un livello intorno ai 45 e 2, ma poi coincide con il break eventuale anche delle due medie mobili che utilizzo sul grafico daily di Bitcoin 21 e 11, due medie che sono due medie in struttura ciclica molto spesso, alcuni di voi mi chiedono ragazzi come si definiscono i parametri degli indicatori, i parametri degli indicatori si definiscono in base a quello che voi volete andare a vedere, in questo caso a me serve una struttura ciclica che sia di un mese e quindi utilizzo delle medie che fittano bene questo tipo di ragionamento, ovviamente ragazzi per questa cosa bisogna poi andare a fare un po' di formazione corti o quant'altro per capire molto bene come si vanno a impostare i parametri, ovviamente se vi leggete in alcuni libri impostano i parametri un po' alla cavolo insomma che diciamo così perché poi ci vuole un po' esperienza per capire effettivamente come vanno utilizzate le impostazioni dei parametri degli indicatori. Questo livello 45 e 2 in questo caso è un livello importantissimo soprattutto per il breve periodo perché se breccato è in close quanto meno daily lascia la possibilità al mercato di aver raggiunto un punto di minimo rilevante che in questo caso coinciderebbe anche con il ciclo mensile di settembre e da qui in poi il mercato ha fatto un swing al rialzo poi il suo pullback e l'eventuale break. Un eventuale break quindi questo tipo di break sancisce l'inizio di una fase diversa di breve periodo perché verrebbe anche breccato il canale discendente che sta tenendo fermo il mercato vedete in questa fase di swing al ribasso quindi negativi. Questo livello quindi 45 e 2 e il livello spartiacco è anche il più importante perché dichiarerebbe che qui è stato chiuso il mensile che i nostri conteggi anche a livello ciclico sono giusti perché vi ricordo c'è sempre la questione legata al fatto se il ciclo mensile dal 22 di giugno al 22 di luglio 20 luglio sia stato appartenente al precedente annuale oppure era già nel nuovo annuale. Questa questione non si può modificare fin tanto che il mercato non ci dà alcuni segnali ma non ha molta rilevanza se non a livello teorico perché in pratica ragazzi va comunque assunta una posizione long in questo momento su bitcoin proprio nell'attesa di un'eventuale fase di recupero con questo ciclo mensile qui che potrebbe essere probabilmente in questo modo. Attenzione perché la scadenza poi successiva che veramente sarà molto importante è nella metà di ottobre. Scadenza molto 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 rilevante anche per una serie di questioni legate alla situazione di lungo periodo dei mercati ma l'affronteremo questa cosa all'inizio del mese quando facciamo poi il video sulla mese di ottobre e su quello che c'è da aspettarsi quindi quali sono gli indicatori e le statistiche del Q4. Al momento ragazzi quindi vi basti sapere che questa dip era giusto farla vediamo se mi porta un profitto superiore io al momento non entro su altre dip perché il mercato è pericoloso potrebbe essere anche un mensile completamente negativo quindi fa una cosa del genere e io non mi voglio trovare assolutamente all'interno di un mensile del genere con delle posizioni di breve. Vanno bene magari quelle in hold che comunque ho ridotto di un 20% come vi ho detto nei video precedenti ma non vanno bene quelle in breve perché una cosa del genere sulle posizioni in breve è un errore ragazzi perché è un'operazione in breve non può subire un ribasso del genere quindi va mandata in stop perciò resto con le mie posizioni leggerine quindi non troppo esposto sul breve come vi vi ho fatto vedere in questo caso sulla mia operazione di prime e attendo il break di questi livelli e di prezzo per vedere che cosa potrebbe succedere andiamo poi a vedere adesso e th e poi andiamo anche a dare un'occhiatina a quello che il grafico della dominance di bitcoin perché comunque anche sulla questione legata alla dominance si può vedere un po questa indecisione del mercato perché è anche vero che per esempio le altcoin alcune altcoin hanno performato benino questo è il ciclo della dominance ragazzi abbiamo anche qui imbeccato alla perfezione il famoso rimbalzo che poi non è arrivato ovviamente in area 51 si è fermato un po prima vabbè ma non è che questo è un indicatore derivato dai prezzi quindi ovviamente non è che si ci fa trading su questo indicatore serve solo a livello descrittivo però ecco questa fase di ribasso è coincisa esattamente con l'inizio del nuovo ciclo annuale e tecnicamente dovrebbe finire appunto a brevissimo quindi verso la fine del q4 ma appunto questo insomma facciamo così guardiamolo direttamente la dominance visto che la sto spiegando e th lo guardiamo tra due minuti allora questo tipo di atteggiamento del grafico della dominance di bitcoin è un po indicativo del fatto che questa questa fase potrebbe tecnicamente essere agli scoccioli però questo ciclo annuale della dominance che è iniziato a settembre del 2020 è totalmente negativo come vedete quindi qui ha fatto la sua parte media e poi dovrebbe chiudere tecnicamente così è anche vero che qui ha fatto un doppio minimo quindi potremmo anche cincischiare un po di tempo in una super barra di congestione e chiudere questo annuale attenzione perché proprio dalla chiusura di questo ciclo annuale della dominance di bitcoin che è importantissimo perché ragazzi perché questo ciclo annuale è anche molto collegato al ciclo dell'albing e al ciclo dell'alcoin contro bitcoin quindi come vi dicevo non bisogna fare trading sulla dominance si può fare trading sulla dominance perché è un indicatore derivato quindi deriva dai prezzi delle cripto però è molto descrittivo di quello che è una situazione quindi se io vado a vedere questo tipo di grafico poi mi rendo conto se gli equilibri di forze tra altcoin e bitcoin in generale si stanno per modificare stanno per modificare il trend è ovvio che se si modificano gli equilibri di forza tra altcoin e bitcoin cambieranno anche le cose relative all'intero mercato cripto per esempio guardate qui questa è tutta la fase del mercato orso che c'è stato nella nell'ultima fase quindi quello concluso sì nel 2018 questa cosa assolutamente è molto rilevante perché vedete un cambio di trend della dominance consiste anche in un cambio probabilmente di trend del di bitcoin e dei mercati in generale perché probabilmente se dovessimo rientrare in un mercato orso vedremo le altcoin soffrire molto anche se su questa cosa ci sono un po delle opinioni contrastanti per via del fatto che le altcoin soprattutto alcune legate alla defy smart contract in questo momento sono essenzialmente anche molto diverse da quello che erano nel 2018 che era pura speculazione ve lo garantisco ragazzi nel 2017 2018 quando c'è stata la bull run praticamente erano solo progetti appena nati quindi questa in questo indicatore lo terremo fortemente sotto stretta osservazione perché una fase di bull probabilmente continuerà solo se verrà breccato questo livello di minimo quindi se la dominance bitcoin scende sotto i 40 e potremmo poi avere il famoso rush finale delle cripto che ci stiamo aspettando sì no andremo poi a vedere questa cosa andiamo a eth come promesso anche qui la questione di ethereum è molto delicata e anche qui la struttura ciclica di eth è similare veramente molto similare a quella di bitcoin molto di più rispetto al solito quindi c'è poca differenza sono sincero tra quella che è la struttura ciclica di bitcoin ed eth se vi ricordate nell'ultimo video ancora non avevamo rotto il minimo io ho detto il mensile di eth è ancora rialzista ma si appresta essere chiusa infatti eccolo qui ragazzi due candelone rosse vanno a rompere il minimo quindi mensile ribastista anche per ethereum ha chiuso probabilmente in questa zona qui in anticipo se non erro di un giorno rispetto a quello di bitcoin questo è il 21 se non erro bitcoin è invece il 22 esatto quindi c'è una differenza di un giorno ma leggerissima poco e niente ora la questione è ancora una volta qui il mercato ha fatto questa fase di recupero ancora una volta ha dato il indicazione di questa aria come livello importante quindi 3200 per quanto riguarda ethereum i 3200 rappresentano a questo punto un livello importantissimo che se è breccato sancisce anche qui un'inversione di breve periodo deve essere breccato anche con una close daily in questo caso come vedete le medie insomma sono anche qui importanti tutto coincide con questo punto ormai catartico diciamo così era un punto un climax che lo chiamiamo in questo modo perché effettivamente se si riesce ad andare al di sopra questa settimana di questi livelli avremo un'accelerazione dei mercati con l'inizio del nuovo ciclo mensile se questa cosa però non avverrà non avverrà cosa può succedere ragazzi che questo ciclo mensile se ne va in pratica scusa ho fatto malissimo disegno se ne va in pratica ad avere questo atteggiamento un po in barra di congestione e poi chiude naturalmente verso ottobre ora avendo un ciclo mensile ribassista nel precedente ragazzi insomma il fatto che questa struttura possa essere deboluccia è possibile quindi la questione è molto delicata i mercati bitcoin e cripto ed eth devono andare a breccare quei livelli ragazzi se non lo fanno e diventa pericolosetto anche perché sono passati già qualche giorno è passato 1 2 3 4 5 oggi è il sesso giorno per quanto riguarda eth già ci siamo avanti diciamo quindi abbiamo necessità in questa settimana di vedere il break di questi livelli 3.200 per quanto riguarda ethereum e 45 e 2 e 45 e 3 per quanto riguarda bitcoin se non lo fa attenzione ragazzi perché un'eventuale fase di ripresa dell'orso è molto possibile in questo momento sarebbe molto grave aspettiamo la chiusura del mese di settembre che è stato un mese difficile come ce l'aspettavamo però anche in barra di congestione quindi ha fatto tanti tanti danni se conteniamo i danni in questo mese di settembre così a me sta bene io metto la firma va bene ragazzi allora vi lascio di nuovo con il super bitcoin gold quello insomma non il gold quello vero ok e ragazzi fatemi sapere cosa ne pensate voi cosa state facendo siete long siete short la situazione è pericolosa anche per voi come lo è per me e ok ragazzi e noi ci rivediamo nel prossimo video se ci sono news ovviamente vi aggiorno come sempre anche sul canale telegram ciao a tutti